Musica Pecorella nel direttivo di Federparchi. Stefano Pecorella, ottorale presidente del Parco del Gargano, è stato eletto nel consiglio direttivo. La notizia arriva direttamente dal terzo sull'Adda, un nuovo impegno, detto a caldo, per dare lustro alla mia attività amministrativa e portare ulteriori risultati importanti per la nostra amata terra e per i suoi abitanti. Ricerca epidemiologica a Manfredonia, martedì terzo incontro. Si tratta martedì 16 aprile alle 17 presso l'auditorio di Palazzo Celestini, in corso Manfredi, il terzo incontro pubblico del progetto di studio epidemiologico sullo stato di salute della popolazione residente a Manfredonia. Il progetto, fortemente voluto dal sindaco Riccardi, si basa su principi della ricerca partecipata, con un tavolo di lavoro a cui prendono parte, oltre al comune di Manfredonia, l'istituto di fisiologia clinica del CNR. Il coordinamento cittadino di Manfredonia è nato all'indomani della presentazione del progetto lo scorso 6 febbraio per garantire la partecipazione della popolazione, per condividere ogni passo dell'indagine epidemiologica. È stato l'istituto di ambiente salute in Manfredonia, in cui chiunque può consultare i documenti e i quesiti dell'indagine, oltre che dare risposte e riformulare le domande. Per consentire inoltre l'accesso all'indagine, anche a chi non utilizza mezzi informatici, cittadini che desiderano raccontare storie o esperienze personali, possono farlo anche in forma anonima, presso l'ufficio pubblico aperto presso il centro diurno Aldamerini, in via Ortozanga, nei giorni martedì e giovedì, dalle 18 alle 20. Operazione Mare Sicuro 2015 della Capitaneria di Porto, martedì la presentazione. Si svolgerà martedì 16, 2015 alle ore 11, presso il porto turistico Marina del Gargano, la conferenza SAM di presentazione dell'operazione Mare Sicuro 2015 della Capitaneria di Porto di Manfredonia, inerente alla campagna di sensibilizzazione alla sicurezza in mare. Nel corso della conferenza saranno illustrate le linee guida dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto circa l'organizzazione di postazioni fisse e immobili lungo la fascia costiera di propria competenza, ovvero la distrocazione di personale e mezzi durante l'intera durata dell'attività. Saranno altresi indicati i comportamenti da seguire per coloro i quali si troveranno alla condotta di un mezzo navale in mare, nonché per tutti gli utenti del mare, bagnanti compresi. Ormai è ufficiale, Manfredonia ospiterà una nuova tappa anche quest'anno del Battiti Live. Confermata la tappa di Battiti Live del gruppo Norba su Manfredonia sarà il prossimo 2 agosto, appuntamento programmato già dalla vecchia amministrazione, vista anche la collaborazione del Polo Televisivo del Sud con l'Agenzia del Turismo. La location del prossimo 2 agosto probabilmente sarà la stessa delle volte precedenti. Presentato all'SD Piloti Sipontini l'11 giugno scorso a rio 20 presso l'auditorium del Comune di Monte Sant'Angelo, la guinda edizione del Rally Porta del Gargano. Nella moderna e panoramica sede di via Sant'Antonio Abate, dove momentaneamente l'attività amministrativa si è trasferita, la sise composta dal sindaco di Asio, dal vice sindaco Scirpoli e dal consigliere Matteo Taronna, che ha svolto la funzione di moderatore nel dibattito, oltre che nella dirigenza con soci dell'associazione sportiva, ha discusso della gara del Rally Porta del Gargano. Quest'anno è giunto quindi alla quinta edizione, promosso a trofio razionale Rally Quinta Zona ed ultima nonché decisiva gara del campionato. Quindi massimo interesse dunque per gli equipaggi partecipanti che daranno spettacolo a Son Distaccate per conquistare gli ultimi punti valevoli per la classifica finale. La gara si svolgerà nel fine settimana che va dal 16 al 18 ottobre prossimi. Grazie.